E' tutto pronto per il ritorno in Abruzzo del grande chitarrista statunitense Robin Ford. L'ente Manifestazioni Pescaresi, in collaborazione con Alena Entertainment, organizza nell'ambito del cartellone di Pescara Jazz 2019 un doppio imperdibile appuntamento per giovedì prossimo 11 luglio al Teatro d'Annunzio di Pescara. Robin Ford in concerto e come opening della serata il Lorenzo Tucci Trio con la partecipazione speciale di Karima. Robin Ford, uno dei miti della chitarra contemporanea, avrà modo di mostrarsi al pubblico pescarese all'interno di un concerto nella serata dell'11 luglio. Questo concerto è un appuntamento molto importante non soltanto perché avremo come principale interprete Robin Ford ma anche perché ci sarà un opening act, quindi un concerto di apertura con il Lorenzo Tucci Trio e impreziosito dalla presenza della vocal Karima. E quindi è un appuntamento in pratica al costo di un unico concerto per vedere due grandi eventi live. Assolutamente imperdibile. Ricordiamolo, Robin Ford è conosciutissimo ma per quei pochissimi che non dovessero riconoscere è stato definito proprio uno dei più grandi chitarristi del ventesimo secolo. Con la sua chitarra fanno musica eccezionale, difficile da etichettare. Verissimo, infatti è uno stile che spazia, possiamo dire, tra il blues, che è il suo riferimento artistico principale in tanti altri generi come il funky, il soul e d'altronde le varie collaborazioni professionali e artistiche che ha avuto in tutta la sua carriera con nomi prestigiosissimi come George Harrison e lo stesso Miles Davis non fanno altro che testimoniare questo tipo di grandissima attitudine artistica di Robin Ford.